Bella ragazze e ragazze, se per caso volete aggiungermi come supporto a un creatore su Fortnite per supportarmi indirettamente, basterà andare su Item Shop, supporto a un creatore e scrivere il nome di Croatomist. Accettare e il gioco sarà fatto. Ovviamente ragazzi ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi. Buona visione! Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi su mio profilo Instagram. Fidatevi, non ve ne pentirete. Link in descrizione. Mi cambiano? Allora, mi chiamano i mercigni di forza. Cosa? Sempre cento sono. Centro. Io ho due squadroni, sempre cento. Se è un onogamo è un problema. Ah ma che cazzo è i massi, sporco demonio? Parca troia eh. Non so che si ci raggiungono, ma voglio dire che saranno simpatici. Non fare questa partita ragazzi. Ragazzi, polletto rinforzante. Bene. Vedete ragazzi che però la nativa non è così malvagia. Secondo me anche da vedere proprio in stream è davvero bella. Poi non lo so eh, potrebbe essere una cazzata. Però secondo me è così. Poi non lo so eh, potrebbe essere una cazzata. Ok, buono, legitt. DTP by the way, oh my oh no. Ok, basta. Un bolletto rinforzante. Ok, basta. Scusi signora, lei vuole un paletto rinforzante? Ah no, non lo so. Ah! No, 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 no. Questo qua è leggermente confuso. Non ho capito cosa stava facendo. Un bolletto rinforzante. Un paletto 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 rinforzante. Get chuked, bane! Ok. 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 No, please. I do this. Grazie. You're the Apex champion. Ak olsun, akavido. Ah! Ah! Ma è l'ultima, boi! Ma Martina, ma mi fa male il culo! Sti cazzo! Ciao, scusa! Ehi, posso comprare netto dei prosciutto... No, la cazzo sta qua. Ah! 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 My god! Ah! My god! Ah! Excuse me, what the fuck, bruh? Ah! 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 Isp E comunque ricordiamo a tutti quanti Ragazzi che 16 più 3 Fa 20 Va bene? 16 più 3 fa 20 Chiaro? 16 più 3 uguale 20 E comunque Ciao YouTube